Covid. L'RT schizza in 7 giorni da 0,91 a 1,26 è il dato che emerge dal monitoraggio settimanale dell'ISS e Ministero della Salute sull'andamento dei contagi. Oggi è l'esame nella cabina di regia, certificato all'aumento dei positivi, con 41 casi per 100.000 abitanti contro i 19 casi della settimana precedente. Sono 19 le regioni e province autonome classificate a rischio moderato e due Basilicate e Vale d'Aosta a rischio basso, quindi ci riportano allerte di resilienza.